che hai fatto e dedicato in tempo, energie ed entusiasmo per tutti noi deboli. Ti auguro per il futuro, penso proprio a nome di tutti, tantissime soddisfazioni. Di cuore il tuo Emanuele. Le squadre, le dico senza dire la classifica, Oropia-Rombiate-A, Olatorio-Menaggio, Tremezzo-1914, Futura-96. Queste quattro squadre qui, per l'appreviazione. Allora, siccome l'Omatorio-Menaggio con 560 punti, è arrivato quarto. E allora, va bene. Chi è che l'aventura? Diamo noi, questi, di come hanno cent'anni si allarga, eh? Due coppie, cent'anni, due coppie. Pensi che la sindacati, 580 punti, Oropia-Rombiate-A. Avanti, 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 avanti. Al secondo fosco, 905 punti. Polisportiva Futura-96. E siamo alla prima passività di tutti. Il numero sportiva Tremezzo-1914. 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 Non vogliamo rimare 200 anni ancora qui. Vorremmo anche andare a casa. Intanto, Papa Francesco. Siamo due ragazze musulmane di 14 anni. E ci tenevamo moltissimo a dirlo, che lo sport unisce e rafforza tutta quella fantastica gente che ogni giorno deve affrontare battaglie sociali, economiche e di cobertà. Ed è bellissimo vedere che nonostante tutto ciò, quando si fa sport è inevitabile sorridere. Grazie sport e servizioni felici. Virtus in Ludis, una rappresentante della Virtus in Ludis. Non una, ma le due ragazze che hanno scritto questa cartolina, ovviamente. Avanti! Intanto che arrivano, chiamiamo per l'arte 14 di calcio queste squadre. San Maurizio Erba, Reduzio, Futura 96, San Carlo Casoretto, qui davanti queste quattro squadre. Allora, dove sono le due ragazze che hanno scritto la cartolina? Dunque, quarta classificata calcio a 7 e altre 14, OSM Vedugio con 645 punti. Terzo classificato, 810 punti. Polisportiva Futura 96. Polisportiva Futura 96. Non ti avete perso. Secondo classificato, 860 punti, San Maurizio Erba. Siamo al primo posto, San Carlo Casoretto 905 punti. Siamo alla classificata, 860 punti, San Maurizio Erba. Siamo alla classifica Fair Play della Pallavolo Under 10. Fair Play della Pallavolo Under 10 con 14,25 punti va alla Polisportiva Futura 96. e poi dove sono non si sa, Fair Play del Calcio Under 14 con 14,5 punti gruppo sportivo Polo. Ecco, raccomando di fare in fretta a scendere perché se no perdiamo molto tempo. Forza! Under 10, Futura 96 per Play! Perdi applausi! Perdi applausi! Allora, a fondo non c'è niente per lei! Un'altra, un altro messaggio al Papa Francesco! Caro Papa Francesco! Partendo dal presupposto che io non sono una ragazza a casa e chiedo, però a parte questo particolare, penso che tu sia un Papa diverso, diverso soprattutto nel modo di interagire con noi giovani e di essere entrato a far parte di questa società come una persona comune e umile. bene! Oltre che non essere una ragazza a casa e chiesa, non sa nemmeno filmare le cartoline, non sappiamo che l'ha scritta. Quindi, chi l'ha scritta, si faccia viva, se no non riusciamo a identificarla. Arianna! 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 Un applauso! Pallavolo! Pallavolo! Ander 12! Le squadre sono... Giorri Nere! Rovinata! San Michele! Traponti! Avanti! Un applauso! Ecco, andiamo la targa del fair play, alla squadra Pollo! Pallavolo! Oh! Pallavolo! Siamo a Pallavoro, Anna 12, quarta classificata a 610 punti, che nella Pallavoro deve migliorare perché ha preso pochi punti, ma nell'Orientile ha fatto successo. Quarto posto, ASD San Michele. Avanti San Michele di Corsa. Applauso. E beh, gli allenatori sono proprio un po' lenti, eh? Affaticati. Lenti, Corsa, siamo noi le colonne del mondo, eh? Siamo noi allenatori le colonne del mondo. Terzo posto, 680 punti, 3 punti! Che figlie di Don Angelo! Eh? Siete tutte figlie di Don Angelo? Bene, al secondo posto, queste qui, sì, nella Pallavoro sono brave, brave, ma nell'Orientile... Nell'Orientile... Ultime... 700 punti, Jolly Nere! Prossimo anno, se non vincete l'Orientile, rimandiamo a casa a piedi! Giorgi! 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 Ed eccoci con la 870 punti al primo posto, Polisportiva Rolfi Lama! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Recordo di corsa, fai il recordo di corsa. Aspetta, aspetta che arrivano tutti. Grazie a tutti. Ecco, calcio Under 10, due squadre, la Orta e Oratorio, San Filipoleri e Sant'Agnese, P. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Salve Papa! Un grande saluto dal gruppo sportivo pervedense. Spero che lei e la sua missione di fede ci aiuti a crescere nella vita. Purtroppo non l'ho vista dal vivo, ma spero di vederla. Che vuol dire che il 7 giugno dobbiamo essere tutti in piazza San Pietro a fare festa col Papa. Tutti! Di fotografo tutti e chi mancherà sarà pulito. Purtroppo non l'ho vista dal vivo, ma spero di vederla. Comunque la sento sempre in televisione. Un saluto da Salvatore Battusa, dal gruppo sportivo Dalletense. E intanto che arriva Salvatore Battusa, per la pallavolo Under 10 femminile, le squadre sono Rogeno, Badia B, Badia A, Nuova Ferraneo 1974, le quattro squadre si presentino per la premiazione Under 10 femminile, Salvatore Al quarto posto, per la pallavolo Under 10 femminile, 775 punti, gruppo sportivo Rattorio, Badia B Sì! 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 Andate belle! Molto bene, bellissimo, terzo posto, 785 punti, nuova Terraria, milenovecentosentantaquattro, terzo posto, piccolosa, 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 piccolosa… Nooo… Guarda qui, un'allenatrice giovanissima, come ti chiami? Claudia, un applauso per Claudia! Al terzo posto, gruppo sportivo Vandorio Magia. Bravissimi! Siamo arrivati nell'Under 10 femminile alla prima classificata gruppo sportivo Vandorio Magia. Siamo arrivati nell'Under 10 femminile alla prima classificata gruppo sportivo Vandorio Magia. Siamo arrivati nell'Under 10 femminile alla prima classificata gruppo sportivo Vandorio Magia. Per quelli che restano c'è una sorpresa. Per quelli che restano fino alla fine, al di là dei premi, c'è una sorpresetta. Quarta classificata, ci esserò olega 680 punti. Quarta classificata, ci esserò olega 680 punti. Quarta classificata, ci esserò olega 680 punti. Secondo i classificati, 765 punti. Oratorio, oratorio, salvo di un prego di un prego di un prego di un prego. Oratorio, oratorio, salvo di un prego di un prego di un prego di un prego di un prego. la società pre-corso Bene, bene, scrive Alberto a Papa Francesco Forza eh, non è che stiamo vendendo questa sera, va bene Una foto basta Scrive Alberto a Papa Francesco Vorrei che tutti i bambini del mondo potessero giocare a calcio liberamente G.S.I. uguale C Aiuta a sorridere insieme Alberto Zanotta a 3.5.1914 Bravo il bello! Bravissimo! La simica per play, pallavolo, almeno 12-15 punti Costa Mastaga Per play, pallavolo, almeno 14-14, due squadre, 14-5 punti Unione Sportiva Position B E gruppo sportivo oratorio nove tratti Ok Allora siamo quasi al lungo di marzo Avremo ancora, è loggi, è loggi per amore Costa Mastaga 50 anni E vi dimostra la volontia Che è andata come nel Provence E vi dimostra proprio tutti i 50 anni St Grazie a tutti. Questa merita perché ha un indirizzo particolare. Oh, cosissimo. Oh, non è cosissimo. Questa merita perché ha un indirizzo particolare. Poi abbiamo solo la parola del 14, ma questa merita. E dice, per tutti gli organizzatori del Viti 2014. Tutti, eh, li vedete lì, eh, gli arrivatori. Glielo fate l'applauso o no? E gli altri, e gli altri, sapete quattro erano gli altri a posto qui per voi? Più di 50, eh. Sono venuti qui apposta per voi. E poi, Tommaso. Tommaso è il migliore, solo per noi. Nino, vicepresidente regionale. Il Viti. Dei, si diverte più di noi. Allora scrive. Tra poche ore. Sarà già ora di andare a casa. Tra pochi minuti, io spero. E si ricomincerà a parlare dei problemi, della crisi, del lavoro purtroppo che non c'è. Ma adesso sono qui, con le nostre fantastiche ragazze, che forse non saranno fenomeni della pallavolo, ma si meritano tutto l'entusiasmo che posso dare loro, fino all'ultimo brisolo di energia. Non so come ci riusciate, ma ogni anno rendete l'esperienza unica e speciale. E io, non vedo già l'ora, è la prossima. Per tutti gli organizzatori, Luca, allenatore di Indus e Glutis. Grazie Luca per voi, grazie. Qualche volta ci fa piacere anche questo. Fatichiamo, ma poi la sorrispazione è grande. Grazie Luca. Alla vola, 14, Sampioni, Crema, Precorto, 9,5 gradi, 4 posto, gruppo sportivo Rottorio, 9,5 gradi. Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Al terzo posto, Regotto Milano, 730. Al secondo posto, Onatorio Sampiotti. E al primo posto, Regotto Milano, 730. Allora, adesso, pronti? Pronti? Fina! Last, 1, 2, 3, 0, 3, 1 Allora, entrance. Perfecto,ення woches so ja badly da sie paure 8? 加記. Bisicٌ.